Sono Francesco Cattaneo, European Sales Manager per la parte distributiva dell'Embedded System, Advantec. Advantec è nata nel 1983, è il più grosso gruppo industriale taiwanese, più di 3.000 dipendenti nel mondo, più di 250 in Europa, presenza locale molto forte, in Italia siamo circa una ventina. Siamo venuti a questo evento per presentare tutte le soluzioni basate su architettura X8.6, architettura RISC. Una speciale attenzione alle piattaforme dedicate al digital signage, grazie a una partnership che abbiamo con Philips siamo stati in grado di presentare una soluzione OPS, quindi un monitor 42 pollici con un sistema embedded perfettamente integrato nello schermo, ci permette di mandare contenuti su qualsiasi contenuto software in Full HD 1080. Altre soluzioni che abbiamo presentato sono dedicate ai nostri mercati tradizionali, quindi al mercato industriale, al mercato della gestione contenuti in ambito di produzione, al mercato del Power & Energy, che è un mercato che guardiamo con molta attenzione, e che è un mercato del tutto. L'evento è stato sicuramente positivo, perché ci ha permesso di conoscere le personalità nuove, siamo rimasti flicevolmente sorpresi dall'interesse per i nostri seminari verticali, abbiamo fatto un seminario dal punto di vista della gestione contenuto nell'automazione, è andato molto bene, ci aspettiamo sicuramente di crescere in Italia, questo è un primo passo. Come tutti i mercati verticali, il Digital Signage sta assumendo delle dimensioni tali da poter essere diviso in sottomercati. Il mercato pubblico del Public Signage è sicuramente un mercato importante, dove spesso però la piattaforma è una piattaforma consumer, sia dal punto di vista visualizzazione, sia dal punto di vista di ad. Il mercato signage ad utilizzo professionale, come quello delle farmacie, quello del retail, medio-piccolo, è un mercato in Italia, sicuramente ha un momento di contrazione, e non sempre guardano la piattaforma X86. Per questo abbiamo portato qui delle soluzioni ad alta definizione risk, basate su dual core, perché vediamo delle risposte ottime da parte dei clienti. Il mercato tradizionale del Digital Signage, inteso come retailing su larga scala, è un mercato che si sta muovendo molto in Europa e l'Italia dovrà seguire.